Buongiorno, benvenuti e grazie per la vostra presenza. Buongiorno a tutti, grazie mille della vostra partecipazione, benvenuti e ci scusiamo innanzitutto del piccolo ritardo, ma siamo forse esattamente nel quarto d'ora accademico, anche se non si tratta di un contesto accadente, dovuto a ragioni tecniche. Devo dire che passando alla sostanza è particolarmente emozionante trovarsi in questo contesto con così tante persone e anche, devo dire, in un posto così bello. Io ho l'onore, l'incarico che ricoprirò in maniera indegna di facilitare la presentazione del libro, essendo un po' in mezzo, anche un po' intimorito tra Ciso Forzani e padre Luciano, quindi cercherò di tenerla il più breve possibile. Inizio purtroppo con un continuo, con un'altra piccola scusa, o comunque con una notizia, che dice che il Cardinale Conti purtroppo non è potuto venire tra noi oggi, perché è stato poco bene nei giorni scorsi, ha avuto un momentaneo aggravamento delle condizioni di salute. Lui sarebbe venuto comunque, ma i medici gli hanno sponsigliato fortemente principali. Non so se Luciano a questo proposito vuole dire qualcosa. Intanto io sono padre Luciano, per me non mi avesse mai incontrato. Avevo incontrato il vescovo di Novara, Renato Corti, quando ero alla ricerca di un luogo dove praticare la meditazione Zen e l'asporto del Vangelo. Era molto ben disposto. Un altro vescovo l'ha preceduto nel darci un luogo a Lodi, a Galvegnano, dove insieme con il monaco Gesù Forzani abbiamo aperto questo luogo, ma il vescovo Corti sarebbe stato molto favorevole anche al nostro portarci a Novara. Ricordando questo e avendo, tra l'altro, ultimamente ascoltato un video dove lui parla proprio del che cosa significa oggi dialogo, significa cambiamento, purificazione, approfondimento, sono andato da lui a chiedergli la sua presenza per parlarci appunto di ciò che oggi sta avvenendo e mi disse subito di sì, polentieri. Sono ritornato da lui sei giorni fa, c'è stato due ore, abbiamo parlato di tante cose, mi ha accompagnato lui fino alla macchina e stava bene. Venerdì sera Don Giuliano, che è il suo segretario, diceva che ha avuto un'altra cosa. E poi si è impegnato a scrivere un testo che voleva oggi presentare a noi, appena sarà un po' meglio lo finisse e lo manda, vero manda. Per cui se qualcuno di voi è interessato avrà ricevuto forse un foglietto, per cui deve lasciare il proprio interizzo e me che vuole e questo testo noi lo faremo circolare. Poi un'altra discussione è questa che abbiamo portato il proiettore e ci manca lo schermo e per cui non possiamo rivedere questo. No, no, lo vediamo. Lo vediamo. Allora, detto tutto questo, ripasso a Riccardo. Sì, lo vediamo, anche se sarà un po' scuro, però possiamo vedere tra un minuto proprio un intervento del Vescovo Corti, che è proprio quello che aveva un po' di acceso il Padre Luciano, la lampadina, la richiesta di venire qua oggi alla principale. Quindi entriamo un po' a questo punto nel minuto dell'incontro di oggi, la presentazione del libro. Io devo dire che sono Riccardo Donelli, ma come dire, la cosa che volevo dire è che ho la fortuna di essere uno dei tanti destinatari delle lettere periodiche di Padre Luciano, quindi nel tempo ho avuto il piacere di ricevere tutte queste lettere, però quando Padre Luciano mi ha chiesto di dire queste due parole per saccititare la presentazione di oggi, ho provato a leggermi alcune e casualmente, forse questo è il filo aggiuntivo che possiamo dire, casualmente mi è capitato di guardare le lettere che riguardano dei film, che mi hanno colpito particolarmente. ce n'è una che riguarda il film sui monaci in Algeria e, se non l'avete fatto, l'intervento che è presente nel libro, è veramente bello. E ce n'è un'altra che riguarda un altro film che è un film, Silence, fatta poco dopo l'uscita di Cine. Volevo leggere una riga di questa lettera, la conclusione di questa lettera, perché credo che a me almeno, insomma, racchiuda il senso del percorso di Vangelo e Zen e di tutto quello che stiamo raccontando oggi. E la frase è questa. Credo senza sostegno indotto, credo senza demandare altrove, credo senza posarmi su nulla oltre ciò che sono. Sperimento Dio. Non ho alcuna prova di Dio indotta da fuori. Credo Dio. Quando tutto cade, ciò che non cade, per tutto cadere, è Dio. Su un'approccio aggredita dalle onde del mare, un uomo dal volto mide moriva cantando un libro, Mofici. Penso che questa sia, per quanto mi riguarda, forse una delle più belle sintesi di questo percorso. Senza voler aggiungere più di altro, passerei a un video, un film, che è il video del Cardinale. ...de scorsi decenni, ma dovremmo dire che sono degli ultimi secoli, in particolare partire dal Settecento, in particolare partire dall'illuminismo. E poi ci sono tanti fenomeni di carattere sociale che dicono una grande trasformazione del mondo nel quale non ci troviamo a vivere. Per fare qualche esempio, pensiamo ai giganteschi progetti, progressi della scienza e della tecnica, ma anche alle nuove possibilità di vita e di libertà, o ancora ai profondi mutamenti in campo economico, o ancora al fenomeno epocale delle immigrazioni, con il processo di mescolamento delle etnie, delle culture. E tutto questo, e altro ancora che mi avrebbe ricordato, non manca di influire in maniera massiccia sull'esperienza religiosa nella vita dell'uomo. E mi sembra di poter notare a questo riguardo che tutti questi cambiamenti possono essere letti da due punti di vista. Un primo punto di vista, che ci tengo a notare, è positivo. Voglio dire che da tutto ciò che ho ricordato, solo con dei titoli, che sono derivati per tutta l'umanità molti benefici che non si potrebbero sottovantare. Credo che sarebbe sbagliata una lettura pessimistica di tutto il passato che abbiamo alle spalle o anche del presente. E sempre in termini positivi vi è da aggiungere che la Chiesa viene rigorosamente stimolata anche da tutti questi cambiamenti che rendono la strada rigida, stimolata a rendere ragione della speranza di cui si sente depositaria. E dunque la Chiesa è aiutata proprio dalle difficoltà a essere più pienamente se stessa. E questo è molto positivo. Io lo penso anche per fare un esempio molto concreto. L'incontro con i giovani di oggi, io ho fatto tanti incontri con i giovani, lo farò anche sabato di questa settimana, sarà una grande assemblea di giovani, la faremo a Tarona. L'incontro con i giovani è sempre una sfida, ma io spero di riuscire a dare qualcosa a loro. Ma quello che è certo è che essi danno qualcosa a me, perché mi stimolano, mi costringono a trovare le parole giuste e riescono a interpretare le esigenze o le attese profonde del loro cuore. E dunque leggo positivamente tutto il travaglio dentro il quale si trova la Chiesa è aiutata a essere viva, ad essere di oggi. Nel medesimo tempo non si può naturalmente non tenere conto che sono anche messi in questione dai passaggi culturali delle realtà fondamentali che fino a una certa epoca sarebbero indiscutibili. Faccio degli esempi. La fede in Dio creatore. Indiscutibile. Non è così ovvio. La rivelazione portata da Gesù Cristo. Anche Gesù Cristo è in questione. è andata in frontumi anche la comune comprensione di esperienze fondamentali nella vita dell'uomo, come il nasce, morire, il vivere in una famiglia, il fare riferimento a una legge morale naturale, tutte cose che sono messe in discussione e che sono di grande rilevanza. Però credo che la cosa importante sia, come dire, un'assonanza di vedute, di sentire e anche di pratica, di vita, che proviene da diversi punti di vista. In un passaggio si parlava anche di, il vescovo parlava di diverse religioni, di diversi modi di sentire, provenienti dalle diverse parti del mondo. E allora, proprio a questo punto, vorrei agganciarmi per passare la parola a Giso Forzani, che, per chi non lo conoscesse, è un monaco buddista zen e che ha anche avuto, tra le varie e tante cose, un ruolo di coordinamento proprio del bittismo zen a livello europeo. E quindi passerei la parola a lui senza neanche parlare oltre, con un problema di connessione. Scusate, mi spiego sia perché oramai letta non lo consente, sia perché voglio leggervi qualche cosa e i banchieri non riesco a farlo come si sente. Si sente? No? No? Eh, allora, vediamo. Ma, brevissimamente, prima, siccome spero che, spero nel senso che non ho nessun desiderio di essere famoso, quindi spero che la maggior parte di voi non mi conosca, vi presento, mi chiamo Giuseppe Forzani, il mio nome è buddista, monastico, diciamo così, a Giso. Ecco, vorrei soltanto fare una precisazione su questa questione del monachesimo, del monaco. Noi usiamo, noi buddisti abbiamo, diciamo così, un grosso problema, noi buddisti occidentali, italiani, europei, americani, comunque occidentali, in genere abbiamo un problema enorme, che è quello di non avere una lingua, non avere ancora una lingua con cui esprimere la visione buddista del mondo, il modo di sentire, tutto quanto, insomma, tutto quello che costituisce la forma culturale di una religione. E prendiamo prestito, più che altro, da traduzioni, dal sanscrito, dal pali, dal cinese, dal giapponese, ecco, una terminologia che però prima o poi dovrà necessariamente, perché il buddismo semmai prenderà piede, si radicherà in queste terre occidentali, dovrà per forza esprimersi con un suo linguaggio, come è successo, per esempio, in Cina, in cui ci sono voluti circa cinque secoli, perché la terminologia emiliana, sanscrite, palide, mi si tradotta, non tanto tradotta, ma si potesse riesprimere con una semantica, delle parole proprie della cultura in cui ha avuto, insomma, tradizioni. Ecco, tutto questo in Italia non è ancora successo, anzi, è appena agli altri, per cui penso che chiunque abbia dimestichezza con qualche testo, con qualche discorso buddista, sente sempre un gusto di tradotto, un gusto ancora di non autentico, non radicato, però questo è un problema con cui abbiamo a che fare, che non possiamo risolvere, perché è questione di tutto. Ecco, di questo fa parte anche la definizione monaco. Io non sono un monaco nel senso monastico, diciamo, del termine con cui si può comprendere il monachesimo benedettino, franciscano, ortodosso, sovrotto. Anzi, diciamo che se la definizione di una persona nasce dal suo modo di vivere, io sono al 100% laico, sono scusato, figli, ho un lavoro normale, vivo con monachesimo, nel mio caso, è una, diciamo, un'istanza interiore e ha fatto parte della mia esperienza di video, che ho scorsi circa una decina d'anni in un monastero che ho investito in Giappone, in cui effettivamente vivere un lavoro, anche se il termine monaco non è adatto a descrivere l'esperienza di vita comunitaria, anzi, con detto questo, l'altra cosa più importante ancora da dire oggi è che io sono qua perché, beh, intanto padre Luciano, anche l'autore di questo libro, che mi ha chiesto di scriverne la prefazione, mi ha anche invitato a essere presente, sono qua molto piena, molto più vista, perché nell'esperienza della mia vita c'è un rapporto molto intenso e profondo, umano e religioso con padre Luciano. Abbiamo trascorso insieme vari anni della nostra vita vivendo nella stessa comunità e adesso in forma diversa continuiamo ad avere quello che per me è l'unica forma veramente autentica di dialogo religioso, cioè un dialogo da persona a persona, da persona viva, persona viva, con la sua esperienza, il suo carattere, il suo bagaglio culturale, le sue differenze e le sue empatie. Ecco, di tutto, e questa è la forma per me o ormai più autentica di dialogo perché il resto è molto spesso un monologo, cioè un dialogo all'interno di sé, assolutamente importante, che è quello che poi produce anche molti testi, ma in cui però non ci si confronta concretamente con un'altra persona, ma ci si confronta con l'idea che ci si fa, che ci si è fatto di un'altra tradizione religiosa. Quindi l'esperienza resta sempre all'interno di sé. Bene, ciò premesso, penso che da me in questa occasione che ci si aspetti che io dica qualcosa di buddista. E allora inizio da una citazione di Pascal. Questo non significa ovviamente che Pascal sia un autore buddista, ma significa semmai che qualcosa di buddista si può trovare ovunque, perché ciò di cui il buddismo si occupa è la realtà, e la realtà non è convenabile secondo le nostre definizioni. E buddismo, in fin dei conti, è una definizione che noi usiamo per comodità, per intenderci. inizio. Dunque, Pascal scrive le seguenti considerazioni. È una citazione di un brano che è molto citato, che io cito una volta di più, però perché mi interessa sottolineare a Pasquale. Sottolineo il divertimento, o divertismani, scrive quello che tra poco va a parlare. Ecco, va detto che il termine divertimento, divertismani, non va inteso come facciamo abitualmente oggi, cioè come un'attività divertente e piacente. Va inteso nel senso di sviamento, deviazione dal verso, dalla direzione, diversione dalla vita. Per Pascal, in particolare, il divertimento consiste nel distogliere se stessi la propria attenzione e la propria mente dalla visione della sofferenza che affligge il mondo, dalla sofferenza intrinseca alla condizione umana. E scrive, senza esaminare tutte le occupazioni particolari, basta comprenderle sotto la nozione di divertimento. E prosegue, quando a volte mi sono messo a considerare le varie agitazioni degli uomini, i pericoli, le pene a cui si espongono, a corpo, nel governo, in guerra, da cui nascono cose tante liti, passioni, prese arditi e spesso malvagie, eccetera, mi sono detto spesso che tutta l'infelicità, il malheur negli uomini proviene da una cosa soltanto, che è non sapersene stare in pace al repollo in una stanza. Qui ci sono due elementi importanti della visione mondiale. Uno è il fatto che spesso portiamo lo sguardo dall'altra parte rispetto alla sofferenza intrinseca dell'esistere. E su questo deturma lo sviamento del nostro sguardo, costruiamo l'architettura del nostro vita, un far finta che non ci sia quel che non ci piace, quel che ci disturba, e dunque una ricerca del benessere, dell'arricchimento materiale, intellettuale, spirituale, colta a evitare il confronto diretto con la realtà della condizione umana, che è realtà di sofferenza. Invece di guardare in faccia la realtà della condizione umana, che poi è la nostra stessa faccia, ci diamo un grande affare per distrarci con tutti i mezzi, e così facendo adeguiamo confusione e sofferenza a noi stessi e agli altri. Credo che la nostra epoca sia particolarmente debita in questa impostazione. Penso che su questo Pasquale non abbia torto. La gran parte dei mali del mondo e di ciascuno di noi proviene dal nostro agitarci e disperderci in una quantità di attività che hanno uno scopo principale di distrarci da noi stessi, dal guardare quello che fondamentalmente si è. E dicevo che questa è una considerazione attivente allo spirito, alla visione buddista, che invece nasce proprio, si basa, si fonda, diciamo, nel racconto storico che oggi facciamo, sul considerare la sofferenza come la verità intensica all'esperienza di esistere da cui partire. Il secondo elemento è la causa che Pasquale individua e non quel rimedio, o meglio, il cambio di atteggiamento che propone. Ci agitiamo tanto perché non siamo capaci di starci le buoni e tranquilli da soli in una stanza a fare via. Pensiamoci un'altra. La sola idea di stare da soli, seduti, senza nient'altro che lo spessi. Seduti. Senza telefono, senza televisione, senza un libro da letto. Niente. Solo io con me. Non ci mette forse un po' a disagio? Ebbene, un aspetto fondamentale della proposta buddista è proprio questo. Metterci seduti da soli in una stanza a fare via. E su questa base edificare la nostra attività. Scrive un autore buddista, un monaco giapponese del XIII secolo, Doven, in un testo che abbiamo tradotto anni fa insieme con Paolo Luciano. I pensieri scorrazzano come cavalli dei campi, i sentimenti balzano qua e là come scendono i boschi. Se, pur essendo come cavalli e scendono, per un momento trattiene il passo che rivolge all'interno la luce, allora con naturalezza la molteplicità di pieni unità. Così questo è il modo in cui muoviamo le cose anche quando siamo mossi dalle cose. Questa istanza a fermare la corsa, non solo delle attività, ma prima ancora dei pensieri e delle intenzioni, anche quelle buone, per restare solo con noi stessi, con se stessi, senza attrezzi e giocattoli di sorta, non solo esteriori, ma anche inferiori, emerge non di la storia della storia del pensiero occidentale, ma non è mai stata presa veramente sul sito. Per fare solo nel nempio, caro sia a me che a padre Luciano, Simon Veil afferma, si crede che il pensiero non impegni, ma esso solo impegna e la licenza di pensare racchiude ogni licenza. Non pensare a facoltà suprema. Sono intenzioni notevoli, ma abbandonate a se stesse. Manca il punto, almeno da secoli, dell'educazione formativa degli uomini e delle donne dell'Occidente che domina lì. Certo, in qualche tradizione monastica, in qualche congregazione religiosa cristiana esistono forme di meditazione, ma sono esperienze di mitia e soprattutto sono quasi sempre forme di meditazione a tema, funzionali a liberarsi da particolari tentazioni o a raggiungere certe esperienze mistiche. Stare soli, seduti in silenzio, senza pensare a, non è un valore in cui la pratica religiosa e filosofico occidentale ha dato credito. Il buddismo è invece sì. Il buddismo, in varie sue forme, e in particolare nella forma del Chan, che si è sviluppata in Cina e poi in Giappone con la denominazione Zen, considera lo stare seduti in silenzio in una certa posizione del corpo, che facilita il non essere presa dai propri pensieri, dalle proprie emozioni, fantasie, elucubrazioni e ricordi, come pratica religiosa basilica. Questa pratica viene trasmessa tale e quale da secolo inalterata, forse è solo elemento che è rimasto inalterato nelle varie vicende storiche e culturali in cui il buddismo è stato coinvolto nel suo trasfigurare dall'Unione alla Cina e ai paesi dell'Italia Oriente e ora in un po' verso il cielo. Questa pratica nello Zen viene chiamata tra Zen, che vuol dire sedere, in là, nello Zen, che in questo caso significa, è la traslitterazione, lo termine sanscrito, di alla che vuol dire visione, equanimità, e che molto impropriamente noi traduciamo come meditazione. Però potremmo fare un gioco e un po' additamente considerare Zen come parola greca che significa vivere. E allora, in una commissione semantica di Oriente e Occidente, Zen verrebbe a significare sedere nel vivere, nell'essere vivo. Zen è una forma di vita cui nulla è aggiunto o tolto dal semplice essere vivo. È la forma di vita in cui vita fisiologica e spirituale si identificano senza alterità. È la forma basilare della vita e da qui si sviluppano le altre forme di vita che ci contraddistinguono e quei ritorni. Il valore particolare che ha ai miei occhi in questo libro, che sgorga dall'esperienza personale, come padre Luciano vive, e non è un'esercizio di retorica e di buoni sentimenti, come lo sono tanti libri di religione. È la testimonianza del posto che lo Zazen ha preso nella vita quotidiana di un sacerdote cattolico. Scrive padre Luciano. In Giappone, un anziano frate dominicano mi ha insegnato lo Zazen, la forma di meditazione trasmessa nel buddismo Zen che egli praticava già prima di conoscere Gesù e chiedere il quattroesimo cristiano. È una forma di meditazione tanto semplice quanto esigente. Da anni io preghi la mia giornata sedendo in Zazen, a prevenzione dal cadere in quella giornata nel profumo profluio delle parole. Fin dal seminario conosco e ho praticato la meditazione, ma lo Zazen è qualcosa di diverso, perché è silenzio e rinnegamento tanto del mio cattivo quanto di quello buono. Partendo dal proprio io buono, è difficile non giudicare l'altro anche mentre si fa l'evoluzione. Ringrazio e voglio far conoscere lo Zazen anche ai miei confratelli di sacerdoti. Questa intenzione, questa comprensione, questa esperienza di un sacerdote cattolico per me è veramente anche, eppure sono appunto estraneo a quel mondo, a quella sensibilità, ne colgo la preziosità. Così viene per questo che voglio sottolineare. E voglio leggere un altro paio di pagine che sono, secondo me, ripeto, per come l'ho letto io, per come l'ho Zazen ogni mattina, subito dopo aver lavato il volto, mi comporta un atto di volontà che pure mi costa. Se fosse consuetudine, sarebbe la consuetudine a trascinare me, mentre per un Zazen sono pur sempre io che voglio compiti. Senza quell'atto di volontà scivolerei nella trascinare me. Un tento di silenzio fisico e mentale praticato ogni mattina mantenendo una posizione composta in voglia a un rapporto più pacato e libero, con quanto in una giornata porta del tempo. Predispone a un rapporto familiare con la propria esistenzialità, che ogni giorno è esposta ai mutamenti e contrastata da sbagliate difficoltà. Andando avanti negli anni, sento forte il bisogno di rincasare nella mia esistenzialità. Fuori di essa mi sento in esito. Questo richiamo a rincasare è anche segno che non sono mai uscito. Mi rendo conto di una verità fondamentale che tutto quello che penso, dico, opero, tutto è segnato dalla mia esistenzialità. L'errore in cui posso cadere è di dare valore assoluto a ciò che avviene dentro la mia condizione esistenziale. In questo errore ricordo con me fatalmente se il mio rapporto con ciò che accade non inizia dal silenzio. Se con il pensiero salgo in cielo, quel cielo è pur sempre il cielo dentro ciò che sopra. Quando parlo di Dio, l'assoluto, quell'assoluto è pur sempre l'assoluto che la mia esistenzialità proietta nel vuoto dell'oltre, rimanendo dentro ciò che sopra. Non è il pensiero che mi porta in alto, ma il pensiero sale in alto dentro di mentre salgo in alto. Il silenzio quasi monotono nella pratica quotidiana dello Zazen mi ha guidato a vedere la mia condizione di peccatore come predisposizione esistenziale all'incontro con Dio, senza dover lacerare il mio limite umano per rafferrare Dio a livelli metafisici da erovo. In altre parole, mi ha aiutato a rinconcare Dio partendo dal mio peccato, quindi a comprendere il peccato come kairos, occasione propizia. Questo mi fa sentire e che mi ha esistenzialmente cristiano. Sono peccatore, ma non come colpa, messi come natura. La colpa rimanda a un Dio fuori di me, ma anche un Dio fuori di me è pur sempre che ha cedito da me dentro ciò che sono. Sono peccatore come natura e la mia avventura esistenziale è convertire. Esistere convertendomi è la natura della mia natura. È conversione, non semplice trasformazione, perché ad animare il cammino è l'anelito verso ciò che io, da dentro ciò che sono, percepisco come valore, come bene. Valore e bene che mi attirano e attirandomi si sottraggono alle mie mani che vorrebbero afferrarmi, come punto d'arretto. Io rimango inesauribile a me stesso. Che cosa vado scoprendo di cambiato il mondo? Vado scoprendo che sono cristiano per natura prima che cresciuto. Nel passato ho creduto che il peccato mi separasse da Dio perché lo credevo solo una colpa e non la mia natura da cui viene anche la mia colpa. Se fosse anzitutto colpa, il peccato sarebbe deprimente. Se invece prima di tutto è natura, è ciò che sono, è il mio capimare conversibile. Siedo in tazzele e lascio sentire i dolci della mente. Per un attimo il cuore di sondolenza mi prende e perdo parzialmente l'equilibrio. Mi risveglio e mi chiedo dove sono? Sono qui. Ecco, questa pagina è una praticante dell'usazione cristiana, per me è veramente comunicativa, anche se la mia esperienza è ovviamente diversa. Queste pagine, dicevo, dicono meglio di tanti libri sul dialogo religioso, il senso profondo di quell'evento esistenziale che si usa di riempire in modo attisonante incontro tra diverse tradizioni religiose. Come non abbiamo sentito, ma avremmo sentito se avessimo potuto sentire il video del Cardinale che parlava proprio di questo, viviamo in un tempo di trasformazione. Vengono meno proprio i pilastri che hanno costituito per secoli le categorie ameneutiche di comprensione della realtà. Non è neppure più un tempo di utopia, perché ora non sappiamo cosa sarebbe bene fare a livello collettivo e macro-storico. In questi frangenti è bene non fare niente. Sono certo influenzato dalla mia età enagrafica, che non è quella certa delle grandi opere. Per questo sento affetto e affinità conforme in vita semplici, che hanno con tutta evidenza nel loro esserci, la loro ragionezza. Provo una particolare simpatia verso i rombetti, forme di vita che svolgono una funzione importante che concide con l'essere quello che sono. Non devono mostrare e dimostrare nulla e sono pienamente operativi. Con la loro funzione ideologica ossigenano il terreno come quello a renderlo freddo e a rendere possibile la semina e la germogliazione di vegetazioni oggi impensabili. Credo che questo sia un compito per la nostra generazione umana. Di oggi i giovani devono operare e agire, ma credo che farebbero bene a condivare uno spazio di tempo vuoto all'interno dei loro giorni pieni, un tempo dedicato alla non motività e non produttivo di risultati. Questo libro racconta tra le altre cose il connubio del fare tra fare e non fare. È ricco di spunti vivaci e di indicazioni che fanno capire in modo immediato e non retorico quanto sia importante e benefico che il nostro agire di pensiero, di parola e di gesti affondi le radici nell'irrilevanza costitutiva del nostro lavoro. Grazie mille per questo contributo così bello e soprattutto così vero, vissuto. la cosa che mi ha colpito è come le parole si riflettessero con un'esperienza, negli anni ma anche proprio un'esperienza in questo momento. Osservavo i volti, cercavo di osservare anche il mio, di tutti voi partecipanti e mi sembrava che stessimo vivendo un'esperienza in assonanza per quello che il Ciso ci stava raccontando. A questo punto lascerei la parola al padre Pesano. Sono ormai tredici anni che Bazzecco è qui nel centro di Milano anche perché per nove anni fu incaricato della cappellania giapponese che aveva sede nella chiesetta dietro il Duomo e ogni tanto vengo salutato in metropolitana ma io non ricordo. Comunque che il saluto fa sempre tanto piacere. Quindi vedendoci nel volto forse qualche saluto in più mi sarà donato quando camminerò per queste vie. Sì, io quelle poche cose che intendo ora riferire sono scritte nel libro quindi potrei anche dire la mia parte. Però sento un dovere anche riprendere un po' le parole del Cardinale Corti che oggi non abbiamo potuto incontrare e sentire direttamente. Anche se a coloro che ci vogliono fare riconoscere il loro indirizzo e mail noi faremo conoscere l'Inca per poter ascoltare ciò che oggi forse è stato difficile comprendere. Ultimamente mi diceva ormai io faccio una sola cosa, sono diventato come un bambino e tutti i giorni mi capita qualcosa di nuovo e lo scrivo nel diario. Mi ha commosso questo perché si tratta di una persona maturata non solo dagli 84 anni ma da un'esperienza anche di servizio alla Chiesa veramente dedita e Papa Francesco ha voluto anche riconoscere comunque la nomina Cardinale perché avesse già 82 anni quindi non avrebbe potuto da qui in avanti svolgere funzioni particolari. riprendere quello che lui a chi è stato possibile cogliere le parole che sono state un po' fa trasmesse dice il mondo è in una grande trasformazione. La grande trasformazione è stimolata dal cammino scientifico e tecnologico. Poi e non c'è un altro stimolo che promuove questa trasformazione ed è il fatto che le ideologie non hanno prodotto i loro frutti. Città di illuminismo, possiamo citare il comunismo, possiamo citare il capitalismo. Poi aggiunge è il fenomeno dell'immigrazione che ci fa, ci coinvolge tutti in un incontro o dialogo se volete scontro con culture differenti e con esperienze religi differenti. Noi missionari abbiamo questa grazia, credo, di scegliere di essere inviati in un'altra cultura. Noi saveriani l'abbiamo nello statuto fondamentale della Costituzione che non dobbiamo, non siamo chiamati a ripetere la testimonianza della fede cristiana nelle forme in cui siamo cresciuti. dobbiamo ad un certo punto disturbare queste forme e vivere dove le forme di espressione umane, anche le sensibilità umane sono differenti. E questa è una bella avventura, sapete, perché in genere un po' tutti, io senz'altro si arriva come dei gondose per 5-6 anni, si vuole riformare il mondo intero, si dice che siamo andati in culture differenti dove ci sono espressioni religiose differenti, ne facciamo tanti indigni, hanno il timone sindudistico, i predisintuisti che passano ma dentro noi. E' tutto quasi un osservare bene per trovare poi lo spiraglio giusto per poterli poi attrarre. Dopo una vecina di anni che tu ti lo vuoi in tutto questo e ti trovi a terra, lì comincia la vocazione missionaria. Ecco allora, l'ascolto, ma non solo. Ti rendi conto che quelle forme religiose e culturali in cui tu sei cresciuto e che per te furono tanto preziose, quelle forme non sono due. Per me lo stupore grande è questo. Il buddismo ha promosso nell'umanità un rapporto con la vita e con le prove della vita molto prezioso e liberatorio per tante persone e non pronuncia i nomi di Dio. Ma non solo non lo pronuncia, non pronuncia il concetto di Dio. Non pronuncia il concetto di Dio. Nulla non pronuncia Dio. Non pronuncia il concetto di Dio. E quindi ecco allora il secondo periodo della vita missionaria, che per me fu molto breve perché dopo 19 anni fui richiamato in Italia. Però grazie a Dio ho potuto continuare ancora lo stesso cammino qua. Comprendo le parole che il Cardinale diceva. Questi cambiamenti, queste situazioni nuove, ci mettono alla prova e mettono alla prova la Chiesa. Se non sa dire, la sua fede è solo con quelle parole, solo con quei gesti, solo con quei progetti, solo in quello stile. Stimola a dire la speranza, le ragioni della speranza. In una, diciamo così, esperienza della speranza che parla al mondo nuovo, così differente da quello in cui tu sei cresciuto e da cui hai appreso quelle formule per dire il tuo messaggio. E cita la creazione. Il Cardinale dice, questo è uno dei punti in cui siamo chiamati ad una ricompressione. Questo lì non è nel senso di buttare via una comprensione e adottare un'altra, ma di un approfondimento della comprensione. Penso che molti di voi abbiano letto un libretto, che sono le sette lezioni sulla relatività generale di Rovelli, no? E la scoperta della rete, la scoperta, una scoperta che è tuttora, diciamo, sotto verifica, sotto in ricerca, però è una scoperta che noi sentiamo via. Questa correlazione di tutte le forme dell'esistenza. Tutte le forme dell'esistenza. E con l'esperienza di Nicola Usano, l'esperienza del silesimo, giungerei anche di Tommaso D'Aquino, che parla di una creazione che è sempre in alto. Vorrei chiedere a voi, quanti di voi si sentono sereni nell'esprimere questa fede, questa espressione di fede, che è cogliere che la realtà è creazione, è creata. che un giorno ci fosse un Dio creatore senza aver creato nulla. Come se Dio ci fosse senza che noi ci siamo. E quindi Dio non avesse relazione. forse qualcuno di noi serenamente lo crede oggi. e lì l'altro in Duomo una signora mi ha parlato da un nipotino nove anni tumore tanto aspettato dai suoi genitori tumore alla gamba pareva salvato guarito ed ora il tumore si è diffuso. E la nonna mi diceva il bimbo voglio giocare voglio guarire per andare a giocare. Ovviamente la nonna diceva questo piangendo. So che tutte le parrocchie di una grande parrocchia di Milano sono tutti in preghiera che prendono. Abbiamo parlato troppo di Dio. Come se Dio stesse nelle nostre categorie nelle nostre preghierine. Cos'è Dio? Io risponderei nelle lacrime di quella nonna. Ma Dio è un oltre e che ci ha creati come una realtà inferiore a se stesso e ci affida a questa scalata per raggiungerlo e se Dio invece fosse il fondamento che tutto anima stimola e se Dio fosse il primo che soffre perché quel bambino sta soffrendo Dio quanto abbiamo parlato di Dio spesso io penso anche ok io figlio di una coppia di contadini tanto umili quanto nobili sono qua sono prete nonostante tutto sono qua ma prima che questa generazione umana ponesse noi nell'esistenza e noi potessimo accedere agli studi la scienza si dice che la vita ha fatto un processo di milioni e milioni di milioni quante forme diremmo noi oggi vedendo dal nostro punto di vista forme non solo incompiute ma forme ancora diremmo violente ci hanno preceduto e mi domano che senso che io abbia a sperare in un paradiso individuale ma questo individuo che sono io è una proprietà del mio io oppure in una corrente di trasformazioni ed evoluzioni questa goccia ora sprizza è colpita da un raggio di sole ma che situazioni sul fatto che io sono qua e affidarmi percependo che la conoscenza è soltanto una indicazione che ti conduce a un confine per cogliere che la realtà ha una profondità inesauribile diceva il cardinale Corti dobbiamo comprendere in modo più profondo che cos'è il nascere che cos'è il crescere che cos'è il muore che forse abbiamo interpretato come un compito da svolgere per raggiungere per raggiungere una meta la quale meta coincideva con il mio triunfo con il collocare me a possesso della mia esistenza e tutto questo mi ha dettenuto tanto dal sentire un affetto fraterno verso Gesù verso Gesù verso l'Eucaristia ho desiderato tanto mangiare questa cena con voi non la mangiano più finché il passaggio non sia completo non verrà più frutto della vita finché non siate tutti con bene il regno del pane di che non venga il regno di Dio la domanda di fondo ma sì certo è stato l'incontro con il buddismo ma forse sarei arrivato a pormi le stesse domande ma questo individuo questa individualità mia è un possesso del mio io o è una goccia di questo flusso della vita eterna la vita eterna è il possesso di un proprio posto privato individuale o è la comunione dei santi la comunione dei santi quando come dice la lettera ai romani chi ha la fede forte non ce l'ha per il proprio paradiso ma per sostenere chi ha la fede debole l'affetto umano fraterno verso Gesù senza decorarlo Gesù oggi ho celebrato il rito romano tutti i peccati stanno perdonati ma non il peccato contro lo spirito ma cos'è il peccato contro lo spirito lo diceva verso coloro che lo criticavano perché cacciava i demoni dicevano loro con il potere di verseburi il capo dei demoni il peccato contro lo spirito che non sia proprio questo non mollare proprio io eppure io non ho che questo piccolo io da offrire il sutra del cuore dice le forme tutti gli oggetti che esistono tutte le forme esistenti sono vuoto il vuoto è tutte le forme esistenti io ecco e unisce nel non è così nella nella redazione giapponese che poi non è la lingua giapponese ma è una lingua venuta dalle quali dalla Cina Kambun dice Siki Soku Ze Ku Soku Ze Siki Siki le forme Soku proprio Ze queste Ku il vuoto Ku Soku Ze Siki il fulma ecco io penso che quel Soku proprio è il Cristo il Cristo dove tutto tutte le forme esistenti nella si si offrono alla grande comunione compreso Dio io lo scrivo anche nei miei di me Cristo non è soltanto il Salvatore del mondo ma anche di Dio perché il padre è tutto nel figlio e il figlio è tutto offerto al padre ma quel legame in mezzo non è un ponte con la linghiera quel legame in mezzo è lo spirito è il vuoto è il vento è l'amore e in quello spirito tutti gli io tutte le individualità si offrono in un certo senso a quella comunione diversale della salvezza credo che in questo soco sia il vuoto queste le forme le forme proprio questo è il vuoto in quel soco quel proprio ci sono a me questo ecco io mi chiedo scusa perché lì ho così trattenuto a lungo mi ero riproposto di essere più breve così è stato ma vi confesso che non so dire di più di quel che ho detto ma che sento che non ho bisogno di dire di più e sono breve grazie grazie sapere dire altro però magari qualcuno di voi vuole fare qualche domanda qualche commento sarebbe molto bello se voleste fare qualche domanda io penso che forse sarebbe meglio non rendere pubblico quello che penso perché sono momenti di riflessione sarebbe veramente molto interessante perché io e lei per capire bene di più però alcune cose la sentivo parlare e mi veniva in mente qualche cosa per esempio pensavo ma sono cose un po' eretiche rispetto al 15-14 perché ho avuto momenti di sofferenza e cercavo di metti anni e pensavo anche a un monastero cosa è che fai? e pensavo a Lodi perché a Lodi c'era questa esperienza di un monastero dove c'era un'esperienza fatta da murci di padre o domenicaio francescavi e frate francescavi con adottisti ho chiamato telefonato e mi ha detto che questa esperienza si era conclusa si era esaminita ho pensato magari magari l'hanno chiusa perché la contaminazione per quanto riguarda la dottrina cattolica non viene ben vista a molti anni si parla di eresia no? quando mia moglie aveva detto che c'era questa questa iniziativa di Corsa di Corsa sono venuto qui perché volevo poter sentire di anche appunto questa cosa qui e non so quanto possa essere un po' spiegabile per quanto riguarda conoscenze che io ho e per quanto riguarda la dottrina perché so che a volte sono contrari al sincretismo si parla di sincretismo e ricordo per esempio a Razzi che è il Papa di Merito che non lo vedeva di quello che aveva le esperienze che sono state fatte fatte con altre religioni anche a Rassese non tutti i cattolici vedevano queste esperienze queste esperienze si facevano come il punto di riferimento era la pancia però quando si parlava di spiritualità quando si parlava di contemplazione comunque di dialogo di confronto per quanto riguarda almeno la spiritualità perché ci sono anche esperienze molto simili a quelle di attore che io penso ai nostri monaci di vita cristiani però quando si arriva a questo momento c'è qualcosa che è un funzione qualcuno che dice no basta non è un eretico non è un eretico non è un eretico non credo che si braccia che sia prestissimo in questo caso però magari può essere interessante capire se c'è anche qualche altra domanda se si può avvicinare perché il filo è corto ciao grazie a tutti saluto per l'arrivo Gesù Fizzani io sono come lui un'insegnante che mi sa zelta che ci siamo introdurati di roba scusate e poi e poi ho letto qualche cosa tanto più apprezzato questo incontro e in particolare volevo chiarimento su un punto che credo cruciale quando lei ha detto che spesso si va in missione spesso si va come missionari a come dire adesso esagero un po' forse completamente ascoltare ma soprattutto cercare di far passare la propria postazione e invece quello che lei ha risulto è stato un crollare su questo punto e un ascoltare e lei ha detto quando io ho cominciato ad ascoltare da lì è iniziata la mia missione e mi parte il passo di tutto che abbia questo mi piacerebbe che potesse approfondire questa prospettina grazie grazie magari una terza domanda troppo voglio girare un altro volevo chiedere allora lei ha detto che nel vuoto lei conosce Cristo ecco io lo sento come una forzatura tra le forme e il vuoto tra le forme e il vuoto Cristo diciamo a me c'è una forzatura voler vedere Cristo comunque dappertutto e come non so se ho voglio vedere per tutti il finale da tutte le parti per cui alla fine tutti devono riconoscerlo e anche da lì e anche presto di questo ma vedete magari rispondere bene ma penso che ebbene intanto il secretismo non è non so adornare l'altare con l'ikebana che invece è un fiore più tradizionale che sarà usato nelle espressioni religiose giapponesi sintoiste o se voi anche budiste il secretismo è ingoiare qualcosa e non digerirlo ecco tutto ciò che digerisce è tuo diventa tuo digerendolo questo credo che certamente a volte capita di vedere persone che incorrano a una forma religiosa poi un'altra e si dilettano tutte queste forme beh io ci suggerisco che ci sono libri che soddisfano di più basterebbe prendere il papirino no ecco c'è questo è bello perché ti diverte e ti dà ciò che tu c'è in religione si cerca di entrare nel profondo della realtà e questo profondo della realtà non lo possiede nessuno perché noi siamo la realtà la realtà è sempre in evoluzione sempre in cammino e sempre in creazione io ho avuto una lettera di incoraggiamento da Cardinal Razzite e penso di essere profondamente in comunione con la missione che a cui mi sono votato è quella di sacerdote cattolico forse Gesù dicendo il peccato contro lo spirito intende proprio dire il peccato di volere mettere la verità dentro una forma di città peccato il peccato il peccato quindi ecco credo che soprattutto in un cammino religioso dobbiamo vivere una onestà che non si appoggia che non si appoggia delle motivazioni esteriori è la tua fede che risarla dice Gesù la tua fede poi dopo la tua fede te la vedi riflessa in una forma in un gesto ma è la tua fede che risarla tu ho capito poi la seconda domanda era cos'è? Cristo a Cristo dappertutto no? no la missione l'ascolto e la missione l'ascolto e la missione però anche il primo periodo si vuole anzi vi dirò che se uno va in missione flosso flosso dice già qui non devo portare i miei i miei modi di pensare e di dire e arrivare in missione già sconfitto non fa nessun cammino no? occorre anche questo sconto e quello che è importante attraverso questo sconto fare un cammino ho portato tante volte questo esempio che perché non può chiedersene orecchie ma era forse il sesto o il settimo anno è una famigliola che abitava in montagna 45 km da dove abitavo io voleva conoscere il Vangelo andavo una volta la settimana dopo un anno propongo il battesimo ci pensano su e la volta dopo mi dicono qui in montagna dove abitiamo noi non c'è nessun cristiano e abbiamo pensato di non prendere il battesimo e poi aggiungse quella signora ma ti diciamo la verità di tutte le tue spiegazioni di quest'anno non abbiamo capito niente e io ho facciuto e ho detto comunque anche se abitate così lontano ci venivo volentieri da voi in montagna qualche volta che sono libero se vi vengo a trovare da amico avete piacere ma certo una sera di lì sempre vado con la moto su su nevica cado mi ferisco arrivo una bella serata assieme e torno a casa dopo un mese vado ancora e la signora si è venuto quando nevicava e subito noi abbiamo pensato che ci dicevi ancora di prendere il battesimo invece non ci hai detto niente e io ma avete detto che non lo prendete io vi rispetto sono da amico e la signora allora tu sei capace di essere amico anche senza interesse del tuo mestiere e gli dice certo siamo amici guarda delle tue spiegazioni non abbiamo capito niente ma ancora è così lo chiediamo anche noi puoi parteciarci lo stesso che la Pasqua non diceva il battesimo quindi non furono le mie spiegazioni di un anno ma io ero veramente convinto che non prendessero il battesimo sono dato da amico se per caso dentro c'era ancora la fregola di convincere a prendere il battesimo non avrebbero colto ciò che invece hanno colto da questo vuoto da questo vuoto no? e così anche in tutte le discussioni che noi facciamo sulla sulla sofferenza sulle questioni del mondo eccetera senza quel vuoto probabilmente si possa averligidito tirare fuori sempre Cristo beh io penso che ogni religione che è una religione che ha un'esperienza di secoli che è stata praticata da tante persone custodisse un aspetto reale della realtà e forse è perché dopo noi rincasiamo nel nostro principio di possesso di esclusiva della verità e ci poniamo in una situazione di contrasto di opposizione o di allerta quando conosciamo un'altra espressione maturata nei secoli che però dice un altro aspetto della verità allora il padre Ossida Sigheto che è quello che mi ha introdotto nella pratica dello Zazero lui mi ha trasferito questo dice io mi sono fatto cristiano perché ho visto il Gesù che muore abbandonato anche da Dio e che prega il perdono perché non sanno quello che fanno e non diremmo in questo vuoto no dice ho visto lo Zè dello Zè le sue parole lui si è espresso così lo Zè dello Zè per cui penso che chiunque segue un cammino religioso se ha un vero cammino religioso segue qualcosa di universale che poi non è più universale quando ne fa una sua proprietà esclusiva per cui certamente per me Cristo è tanto nell'ostia dell'altare sacramento della sua presenza tra di noi come è in un pulvisco della terra come pulvisco laio come salta ma per me tutto è cristico nel senso che sono tutte individualità in comunione dove la radice ultima non è l'io ma è la comunione l'amore Dio è l'amore se Dio rimanesse indipendente assoluto come dice il termine assoluto senza relazione Dio non è un no? non so se fai su quest'ultima cosa vorrei dire un po' credo che sia importante questo diciamo malessere di amico a sentire un cristiano che dice che Cristo è ovunque tutto che Cristo è ovunque anche là dove la realtà non è espressa diciamo è descritta in termini cristiani secondo me deriva da un errore di fondo che è comunissimo e che è un errore proprio classico della nostra ontologia occidentale pensare che esista la vita separata dalle forme non c'è una vita che è una forma non esiste una vita che prende forma la vita la vita è una forma e quando vantano chiaramente e sinceramente dice io mi scopro mi sono scoperto naturalmente cristiano non per scelta non per diciamo così conversione e la conversione non è la conversione da un essere da un non essere a un essere ma è una conversione di un'idea con il clima come la creazione ecco ma questo significa che un cristiano deve vedere Cristo oppure nel cristianesimo nel cristianesimo nell'ateismo oppure perché è una forma di cristiano un buddista vedrà diversa ma questa è l'importante non è un ricordo dappertutto è proprio qualche cosa che viene da dentro quando un padre Luciano fa zanzetta non è che diventa buddista fa zanzetta cristiano e questo è importante che sia però per me che sono buddista e che lo faccio da buddista diciamo non cerco di farlo da buddista per il senso che non posso avere queste parole è importante che lui lo faccia da cristiano e lo testimoni e che quindi veda Cristo nell'unico questo proprio perché ogni vita è una forma di vita che poi si aloga certo ma non c'è una religione prima io questo cosa che ho sentito dire spesso ho grandi dubbi che esiste una religione prima delle religioni le forme della religione sono non ce n'è un'altra perché se no se risaliamo per cercare quella fonte che non è che non scopri una fonte che non sgorga che fonte ogni fonte sgorga e diventa vicino e diventa poi fin ecco questo è una religione per questo è fondamentale che la testimonianza cristiana sia cristiana che la religione e che quindi un cristiano veda Cristo c'è magari qualche altra domanda grazie mille mi ha anticipato perché avrei chiesto di rispondere a queste domande c'è qualche altra domanda che qualcuno vuole fare un commento essendo giapponese io vorrei dire una cosa quando io studiamo catechismo con padre Lucciano qualche cosa mi sono convinta che religione e fede sono un concetto di me su cosa io sono veramente religione e dipendere dove è nato oppure questo territorio invece fede è qualche cosa credo al di là del nostro cammino da seguire cosa assoluta questo è dove è nato io sono nato in Giappone quindi sono stata buddista questo io non ho potuto rifiutare però dopo quando sono stata in Giappone in Italia e poi guardavo il cammino degli italiani allora qui qualche cosa diverso per quello che sono andata da padre Lugiano questo è proprio fede prima di convincermi di quella moda di questo cristiano cioè quello che non ho sei anni impiegato prima di tre anni non ho potuto credere come mai Santa Maria ha avuto senza rapporto ha avuto figlio questo è però quel punto dopo tre anni mi sono d'accordo questo è fede fede è un'altra cosa per quello che padre Lugiano è seguito e poi alla fine è stata fastidata adesso sono molto molto contenta se arriva l'ultima domanda se qualcuno vuole aggiungere un commentario l'ultima domanda spero non sia proprio ma in un curioso prima diceva che ho letto fino a mattina anche se la giornata è l'utica presto inizia e in un momento in cui è quello che ho capito non si recita le perriere non si fanno come dire pensieri che appartengono a quel momento che sta vivendo ma la domanda è questa che cosa accade in quella misura personalmente che cosa fa lei il rapporto che si stabilisce in quella misura se è singolo o se perdo il tuo dio e che cosa accade in quella misura questa è un po' la mia priorità non so se è stato personale ma ho provato a fermare mezz'ora la fatica di fermare mezz'ora che ci è esperto magari un po' di fare a capire sono più contento per quanto riguarda Lombardi perché ha parlato tanto di amore e questo è importante pensavo che due parole in più sulla compassione che significa comprensione rispetto agli altri no? per lo potere che non potesse una dica insomma e comunque la pace la pace e l'amore è bravo quando io faccio zazè sto lì con la testa che frulla però lascio la lascio frullare non c'è un senso è l'esempio che dirò fuori tante volte e mi rimandano su questo faccio come lo straccio io uso ancora lo straccio con lo spazzolone perché lo metto a mollo e cosa fa? lo metti lì e basta lui sta lì e lo sporto si stacca l'acqua lo pulisce è così io quando lo metto lì mi lascio pulire ma se per caso partissi con il mio concetto di Dio partirei già come una mia struttura io voglio siccome sono nato non da il mio pensiero della mia struttura eccetera ma sono capitato qua proprio gratuitamente mi restituisco a quella gratuità e mi lascio pulire mi lascio pensare mi lascio perché se dico Dio vado a cadere ancora nel mio Dio no? ecco e allora mi lascio pensare dopo però io mi alzo recito leggo il pensiero del giorno e poi faccio le mie cose che devo comprare nella mia giornata no? quindi io non direi non userei un'espressione per dire quella chiamiamo la meditazione per intendersi meglio ma il suo nome è Zazen ed è giustamente differente da meditazione questo nome come se fosse un qualcosa adesso vi ho trovato la formula è un po' come i bambini che fanno la prima comunione e il parroco anche la papà e la mamma adesso hai mangiato Gesù adesso Gesù ce l'hai dentro bellissimo bellissimo però questo Gesù che sei dentro è quel Gesù che poi è tutta la tua vita no? con gli errori che farai tutto quanto eccetera eccetera quindi ecco abbiamo sempre il pericolo di dirci le cose come noi le abbiamo già catalogato invece avere comunque dei momenti in cui si molla lo schema del nostro pensiero e ci si lascia pensare che tra l'altro anche tu anche fisicamente parlando è il primo aspetto del nostro esistente esistiamo veramente gratuitamente no? e vorrei aggiungere una cosa così ah mio papà e mia mamma non hanno mai fatto il tazè però mi ricordo la prima volta che in un discorso che invece nel 70 la prima volta che sono tornato dal Giappone parlando e salto fuori subito delle domande così da qualche d'uno con quasi una paura che mi ricordo quello che disse è la mia mamma e dice ma se quello che è buono è buono per tutti mi erano dice questa frase qua quello che è buono è buono per tutti d'accordo che però poi dopo ciascuno deve fare un suo cammino deve portare un abito può portarli tutti no? però porta un abito ma non con un senso di una esclusività porta un abito sapendo che è il suo limite e in quel limite porta la vita universale in un certo senso no? ecco questo mi pare però quando uno fa una bella malattia e sta fermo e ce la fa sta fermo senza dimenarsi come se trollasse il mondo perché lui non può andare a lavorare non può eccetera eccetera io penso che fa un bellissimo stazio io guardi sono qui a presentare il libro di padre Luciano non sono qua a fare una lezione di conti quindi non vedo perché avrei dovuto parlare di compassione o di qualsiasi altra cosa comunque in breve in sintesi è questo è la certezza che abbiamo un comune io, lei e chiunque altro è la certezza del nostro lavoro questa è la compositiva qualcuno vuole in estremi dire qualche cosa altrimenti concludiamo questo incontro così intenso così bello evidentemente sono disponibili dei libri se qualcuno volete una coppia sono disponibili dietro l'ultima cosa che vorrei fare da parte mia è ringraziare nuovamente anche i padri che ci hanno studiato in questa bellissima chiesa e se non non vorrei sbagliare ma credo che domani sia San Barba quindi credo che possa essere i padri che possano essere particolarmente contenti anche se magari qualcuno volesse contribuire al loro sostegno grazie da parte mia da parte mia da parte mia grazie 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 grazie